Emergenza rifiuti, la regione sceglie Sciacca come uno dei cinque siti dove costruire termovalorizzatori. Per l'aggiunta Crocetta questa zona avrebbe una vocazione ad accogliere i rifiuti, prime proteste da parte del Movimento 5 Stelle. Ieri sera l'elezione di Michele Catanzaro al nuovo segretario del Partito Democratico di Sciacca. Non voglio sentir parlare di correnti, siamo uniti. Queste le sue prime riflessioni aggiorni la composizione del gruppo dirigente del partito. Droga, alcune piantine di canapa indiana sono state scoperte dai carabinieri nelle scorse ore rispettivamente a Cattolica Eraclea e a Castelvetrano. A Cattolica addirittura un 61enne le coltivava davanti ad un edificio scolastico. Un anno fa nasceva a Sciacca il Comitato Civico per la Sanità, un impegno che continua nel segno di un controllo della qualità delle prestazioni offerte dal Giovanni Paolo II, ma intanto bisogna fare i conti con l'ennesimo slittamento dei concorsi. Acqua pubblica troppo cara in Sicilia, ben al di sopra della media nazionale. Feder Consumatori ha organizzato un incontro a livello regionale per fare il punto della situazione, anche rispetto alla stessa qualità del servizio al cittadino. Altri 192 milioni di euro di fondi europei per completare la realizzazione della fibra ottica in Sicilia. Questo è il piano approvato ieri dall'Aggiunta Crocetta. Le somme consentiranno di portare avanti i lavori in altri 144 comuni siciliani. Un cordiale saluto ben trovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. I rifiuti oggi in apertura dovrebbe essere realizzato nel territorio di Sciacca uno dei cinque termovalorizzatori previsti dal governo regionale per fronteggiare l'emergenza rifiuti nell'isola. La motivazione della scelta del sito? La vocazione di questo territorio che per l'Aggiunta Crocetta non è evidentemente quella turistica, ma quella ad accogliere i rifiuti di un vasto comprensorio proprio per la presenza della discarica di Contrada Saraceno Salinella. Ad oggi ancora chiusa però anche per ritardi della regione. Per i particolari seguiamo il servizio di Maria Genuarti. La vocazione di Sciacca evidentemente non è quella turistica, men che meno termale, visto che le terme ce le hanno chiuse. Per la regione la vocazione di questo territorio è quella di accogliere i rifiuti e ora anche di vedere realizzato un termovalorizzatore. Si scopre infatti che uno dei cinque impianti che il governo regionale intende realizzare nell'isola per far fronte all'emergenza di rifiuti dovrebbe sorgere proprio a Sciacca perché in Contrada Saraceno Salinella c'è una discarica pubblica che però è chiusa da un anno anche per ritardi da imputare alla regione. La scelta dei siti dove realizzare i termovalorizzatori dunque è stata fatta sulla base della vocazione dei territori come dichiarato al giornale di Sicilia il dirigente del dipartimento rifiuti Morizio Pirillo. Quindi gli impianti sorgeranno a Lentini e Bellolampo dove già si trovano le due maggiori discariche dell'isola e a Castellana Sicula, Campobello di Mazzara e Sciacca dove sono presenti le altre strutture seppure più piccole. Il piano nazionale prevedeva due grandi termovalorizzatori in Sicilia. Il governo regionale intende realizzarne da 5 a 7 più piccoli per limitare l'impatto sui territori e i primi bambi dovrebbero essere pronti per la fine dell'estate. Non si esclude neanche ricorso ai privati, a cominciare dai Catanzaro che già gestiscono la discarica di Siculiana. Intanto la notizia dell'individuazione di Sciacca come sito dove realizzare uno degli impianti ha generato la forte presa di posizione dell'Assemblea Permanente del Movimento 5 Stelle che annuncia battaglia contro l'iniziativa del governo regionale con una campagna di raccolte firme e di sensibilizzazione della cittadinanza. Non permetteremo a nessuno dei rappresentanti locali di quei partiti che governano la Sicilia operando scelte sbagliate, scrivono i 5 Stelle di Sciacca, di continuare a cavalcare finte battaglie e al tempo stesso di mantenere al calduccio la tessera di partito. Si tratta, aggiungono, dell'ennesimo sfregio del governo guidato da Rosario Crocetta alla città di Sciacca dopo la chiusura delle terme e il depotenziamento dell'ospedale che non tiene assolutamente conto della vera vocazione del territorio, quella turistica, e della sua incompatibilità con impianti di questo tipo. La posizione del Movimento 5 Stelle del resto è nota da tempo e oggi viene ribadita la ferma opposizione a qualsiasi piano regionale rivolto all'installazione di inceneritori in Sicilia. L'emergenza di fiuti intanto rimane in attesa di incrementare le percentuali della raccolta differenziata e di realizzare i termovalorizzatori. E allora la Regione ha pensato bene di portare la spazzatura della Sicilia all'estero. Ovviamente i costi aumenteranno e i sindaci sono già sul piede di guerra. Seguiamo quest'altro servizio. Discariche chiuse, percentuali di raccolta differenziata ridicole e l'emergenza rifiuta in Sicilia non è destinata a cessare. La soluzione è quella di portare la spazzatura all'estero. L'operazione già prevista nell'ordinanza del Presidente della Regione delle scorse settimane scatterà a giorni e in una prima fase saranno i gestori delle poche discariche ancora aperte nell'isola a scegliere la località dove portare i rifiuti che non sono più in grado di smaltire. Era prevedibile che il sistema andasse in tilt dopo la chiusura di diversi impianti non dotati del trattamento biologico meccanizzato. E' questa la ragione per la quale è stata chiusa la discarica di Siculiana e che determina la mancata riapertura della discarica di Sciacca nonostante siano stati ultimati ormai da mesi i lavori di ampliamento. I cumuli di spazzatura che abbiamo visto anche nel nostro territorio nei giorni caldi dell'emergenza continuano a rappresentare un serio problema nei comuni del Trapanese o della provincia di Palermo. E anche se nelle nostre zone queste immagini sono ormai state archiviate, ciò non significa che il problema è stato superato. Sciacca e gli altri 16 comuni dell'ex ambito territoriale ottimale continuano a portare la spazzatura nei centri di trasferenza e da lì poi nelle discariche del Catanese. I costi sono lievitati e ce ne renderemo conto. E non è finita qui perché adesso è necessario anche portare i rifiuti all'estero, in quelle località dove da tempo sono stati realizzati quei termovalorizzatori di cui in Sicilia si torna a parlare giusto in questi giorni di emergenza. Operazione che secondo le prime stime fino alla fine dell'anno costerà 40 milioni di euro e che ricadrà sui comuni e poi ovviamente sui cittadini. La Regione non può intervenire, ha già dichiarato l'assessore contrafatto, perché i costi di smaltimento sono previsti all'interno della tassa rifiuti. Eppure l'emergenza dell'ultimo periodo è frutto proprio della mancata programmazione, di scelte e decisioni che dovevano essere assunte e non è stato fatto, di un rimpallo di responsabilità che dura da anni e di una gestione che, dagli ambiti territoriali ottimali, doveva passare all'SRR, ma che si vuole nuovamente cambiare, affidandola ad un'unica agenzia in Sicilia, all'ESER. Seduta a consigliare in sessione straordinaria e urgente questa sera a Menfi per esaminare e adottare il nuovo regolamento comunale per la raccolta differenziata, un obbligo imposto dalla Regione attraverso la famosa ordinanza scaturita dall'emergenza rifiuti nell'isola. I comuni devono adottare il regolamento entro il prossimo 7 luglio. È rischioso che l'amministrazione comunale di Sciacca vada avanti nell'attuazione del piano rifiuti perché se il TAR a cui noi ci siamo rivolti dovesse annullare il piano aro, l'eventuale responsabilità del Comune nei confronti dell'impresa aggiudicataria dell'appalto darebbe luogo a un danno per le casse comunali. E' quanto dichiara oggi Stefano Scaduto del Comitato per la Trasparenza dei Costi del Servizio Rifiuti commentando le dichiarazioni di ieri del Sindaco Fabrizio Di Paola a proposito del ricorso che il Comitato ha presentato al TAR Sicilia contro il piano aro dell'amministrazione. Di tale danno, continua il Comitato, dovrebbe poi rispondere il dirigente competente per avere sottovalutato nel procedere con l'appalto i motivi che stanno alla base del ricorso. ed è per questo che chiediamo prudenza all'amministrazione e al dirigente competente di esaminare attentamente il nostro ricorso. Non c'è alcuna ostilità nei confronti del Sindaco, conclude il Comitato, ma solo il legittimo dissenso rispetto alle scelte operate dalla sua amministrazione in materia di rifiuti in ordine alle quali non molleremo. Cambiamo argomento, passiamo alla politica. Voglio che questo partito non guardi al passato ma al futuro in un progetto di unità senza farsi condizionare dalle correnti. Con queste parole ieri pomeriggio il neosegretario cittadino del Partito Democratico Michele Catanzaro ha preso le redini del PD. Il servizio è di Massimo D'Antonio. Io sono convinto di una cosa, che questa segreteria deve essere una segreteria che intanto parli di futuro e non di passato. Il caldo a foso di un lunedì pomeriggio di luglio ha fatto da sfondo al congresso del PD che ieri ha eletto il renziano Michele Catanzaro, nuovo segretario cittadino, al posto di Gianfranco Vecchio. Un congresso che è possibile oggi definire sobrio, talmente sobrio che sul palco della Sala degli Archi della Multisala a Badia Grande gli organizzatori non hanno piazzato neanche una bandiera. Un congresso del PD senza una bandiera, perché? Questo non lo deve chiedere a me perché ad oggi non sono io l'organizzatore del congresso. Una domanda che dovrebbe rivolgere a chi ha organizzato il congresso del PD. Diciamo che è piaciuta la bandiera? Assolutamente sì, le bandiere sono sempre importanti. Nelle stesse ore in cui a Roma il leader nazionale Matteo Renzi sfidava la minoranza interna Sciacca, Michele Catanzaro precisava non voglio sentire parlare di correnti, dobbiamo essere uniti. Io non voglio assolutamente, anzi io desidero per il futuro che non ci sia più quella suddivisione delle aree. Lei più volte ci ha tenuto a invocare unità nel partito, evidentemente c'è un po' di preoccupazione da questo punto di vista? No, assolutamente. Secondo me quando si invoca unità non c'è la preoccupazione, ma c'è la consapevolezza che l'unità è sintomo di forza e l'unità deve coesistere per poter affrontare tutto quello che possano essere le competizioni di domani. L'obiettivo di Michele Catanzaro è chiaro, condurre il PD di Sciacca alle prossime elezioni amministrative, c'è però uno schieramento di centrosinistra da ricostruire. In vista di queste elezioni del prossimo anno si parla di questo centrosinistra, ovviamente il PD farà da battistrada, però la novità è che nel centrosinistra, nell'opposizione alla giunta di Paola, c'è un gruppo, quello rappresentato da Paolo Mandracchi in Consiglio Comunale, che ha già fatto una scelta, ha detto noi l'anno prossimo saremo della partita con una nostra lista, con un nostro candidato. Lei ritiene che si possa recuperare un dialogo con questa forza politica per arrivare uniti a questo appuntamento elettorale? Non c'è nessun tipo di problema perché non penso proprio che non ci sia la possibilità di recuperare un dialogo, anche perché non è mai stato perso il dialogo. Per l'individuazione del candidato al sindaco, le primarie? Guardi, intanto in questo preciso istante noi facciamo una cosa che è fondamentale, quella di strutturarci come partito e riorganizzarci e fare la nostra segreteria. Dopodiché, poi su quello che possono essere le primarie o qualsiasi altra cosa, lo valuteremo strada facendo. Dico, però mi pare che comunque le primarie rimangano... Non mi sembra molto entusiasta su queste cose. No, no, mi pare che le primarie rimangano uno degli elementi più importanti. Lo sapete perché? Perché sono convinto che bisogna anche condividere le scelte, come ho sempre detto prima con il partito, e poi capire con chi, ovviamente, attraverso un programma, condivide quello che possa essere un progetto unitario di centrosinistra a Sciacca. Durante il suo intervento dal palco Catanzaro ha ammesso di avere avuto qualche remora da accettare l'investitura al segretario, ma di essersi poi messo a disposizione del partito, poi ha attaccato l'attuale amministrazione. Possiamo tranquillamente dire di essere alternativi ad un governo di centrodestra che ormai, consentitemi di dire, è arrivato al suo capolinea. Ma Michele Catanzaro ha poi ammesso che è difficile oggi far politica con un governo regionale targato PD, che è quello che ha chiuso le terme di Sciacca. Ad esempio un tema che questa sera è stato sollevato, quello delle terme di Sciacca, che è un fallimento per la nostra città, che è un fallimento per il Partito Democratico, non possiamo esimerci da quello che sono le responsabilità. E non è che possiamo dire alle persone noi non abbiamo la responsabilità, oppure possiamo dire noi siamo pronti a fare... noi dobbiamo e se vogliamo ovviamente dare un segnale fondamentale, dobbiamo dire alle persone qual è la soluzione. Il congresso che ieri ha eletto a Catanzaro, nuovo segretario del Partito Democratico, non si è chiuso. Prossimo appuntamento tra una decina di giorni per completare la nomina dal gruppo dirigente che affiancherà il segretario. Questo congresso rimane aperto per 8-10 giorni perché insieme a me io voglio presentare una squadra, una squadra come ho detto che sia una squadra snella, forte e pronta per il lavoro. E quindi nello stesso tempo significa che io comunque mi consulterò con tutto come ho sempre fatto, rispettando tutte le anime di questo partito, anche se ad oggi non c'è nessun tipo di problema o nessun tipo di caso. È stata soltanto una mia considerazione fatta su questo congresso che fra 10 giorni mi farebbe piacere di coessere, non tirarci sulle lungaggine e quant'altro, ma entro 10 giorni presentare questa squadra. E al termine dei nostri telegiornali vi proporremo integralmente il discorso di insediamento del nuovo segretario del PD di Sciacca Michele Catanzaro tenuto ieri sera alla multisala Badia Grande nell'ambito del congresso del partito. Adesso ci fermiamo per una prima pausa pubblicitaria. Rimanete con noi per tutte le altre notizie. Tentò di rapinare l'antico chiosco sito in piazza Saverio Friscia di fronte alla villa comunale per esigenze familiari. Aveva bisogno di 100 euro per far fronte alle necessità del figlio. Questa è la motivazione del gesto per il quale Mirko Costanza, saccense di 33 anni, ha chiesto scusa, ma anche il patteggiamento a 8 mesi e 20 giorni di reclusione, richiesta che al vaglio della Procura della Repubblica. A Mirko Costanza vengono contestate anche le aggravanti del travisamento, del possesso di un'arma, della violazione della privata dimora. La rapina fu sventata grazie all'intervento di alcuni tassisti che sossano nella zona attratti dalle urla che provenivano dal bar. Droga, alcune piantine di canapa indiana sono state rinvenute ieri a Cattolica, Eraclea e a Castelvetrano. A Cattolica, un 61enne del luogo è stato scovato dagli agenti della Polizia Municipale a coltivarne 8 davanti a un edificio scolastico. A Castelvetrano, i carabinieri hanno invece arrestato un 31enne trovato in possesso di 5 piantine di canapa, 10 grammi di hashish ed un coltello per il taglio della droga all'interno della propria abitazione. Il servizio di Francesca Ciaccio. Coltivava canapa indiana davanti la scuola di Vioreto Nuova Cattolica, Eraclea. Denunciato un 61enne del posto dagli agenti della Polizia Municipale che hanno notato le 8 piantine davanti la struttura scolastica. L'uomo accedeva ai locali chiusi per le vacanze estive da un'abitazione attigua alla scuola. A dirigere le indagini è stato il comandante della Polizia Municipale Pasquale Campisi che ha provveduto a trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica di Sciacca. L'uomo è stato denunciato e le piantine sotto sequestro dopo gli accertamenti di rito verranno distrutte. Altre 5 piante di canapa indiana sempre ieri sono state rinvenute dai carabinieri della stazione di Marinella di Selinunte a Castelvetrano a seguito di un'attività di controllo finalizzata alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti. In Manette il 31enne che le coltivava un abitante della borgata di Marinella che è stato trovato in possesso anche di 10 grammi di hashish e di un coltello utilizzato per il taglio della droga. Sempre durante i servizi esterni negli ultimi giorni i carabinieri hanno fermato tramite posti di blocco e controllato diversi giovani provenienti da Castelvetrano trovandoli in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana. Per i giovani è scattata la segnalazione alla prefettura di Trapani ed il provvedimento di sospensione del documento di guida. Un grosso pesce ormai in decomposizione si è arenato ieri nella spiaggia di Maragani. Le foto che state vedendo ci sono state inviate da alcuni bagnanti che hanno anche informato la Capitaneria di Porto la quale assicura che entro la giornata odierna la carcassa verrà rimossa. Si tratta di un pesce del peso di circa 30-40 kg spiaggiato per cause ancora da accertare. Fa il punto della situazione ad un anno dalla nascita il Comitato Civico per la Sanità di Sciacca. Sullo sfondo lo slittamento dei concorsi ma anche la necessità di continuare a tenere accesi i riflettori sul Giovanni Paolo II. Sentiamo. L'ennesimo slittamento dei concorsi è un esito inevitabile visto come è stato organizzata la sanità siciliana la pensa così il Comitato Civico per la Sanità di Sciacca che ad un anno dalla sua istituzione fa il punto della situazione riguardante la qualità dell'assistenza ospedaliera. Si arriva alla conclusione che era prevedibile e cioè organici gonfiati in un periodo di crisi oppure posti creati ad hoc e nascosti dietro gli ospedali riuniti o dietro altre sigle abbastanza strane si scopre che hanno un costo e il Governo nazionale fa notare che per rientrare nel piano di rientro e negli impegni che il Governo regionale aveva preso bisognava ridurre questa pletora di posti che spesso non erano stati nemmeno attivati quindi erano delle strutture promesse spesso in ospedali periferici con scarsa utenza quindi come già abbiamo detto abbiamo detto nel passato erano degli impegni elettorali e che fino all'ultimo chi li ha presi questi impegni deve dimostrare di difenderle fino all'ultimo il risultato è che hanno bloccato gli ospedali della Sicilia per oltre un anno unicamente per motivi di bassa cucina politica tutto ciò ha comportato un ritardo importante per l'espletamento dei concorsi quindi disagi che noi conosciamo direttamente per Ignazio Cucchiara il programma del comitato è quello di continuare a verificare la qualità delle prestazioni ospedaliere e la battaglia è quella di far tornare all'ospedale di Sciacca la situazione del passato quella in cui il Giovanni Paolo II era presidio centrale a disposizione di un intero territorio ci risulta già che per alcune reparti del presidio di Sciacca c'è un numero di prestazione superiore rispetto ad altri degli stessi settori di altri presidi nei quali però c'è un numero di dipendenti superiore cioè dove si lavora di più c'è un numero in meno nonostante quelle che sono le piante organiche che si ispirano a un criterio spesso non sempre di proporzionalità e come è possibile se c'è un presidio se c'è un settore nel presidio nell'ospedale di Sciacca in cui ci sono più prestazioni e ci sono poi delle qualità di prestazione che negli altri presidi e mi riferisco ad Agrigento Licata e in parte Canicattì non vengono effettuate o in numero inferiore e lì ci sono più dipendenti quindi l'impegno nostro è che al di là delle scelte di fondo di cui parlava il dottore Giordano e lì ci aspettiamo non è da escludere con questa classe dirigente che ci ritroviamo qui che ci sia veramente un regalo di Natale di cui al di là di questo però noi vogliamo esercitare il controllo perché lì tu non mi puoi venire a dire sono delle scelte che io faccio le scelte sono una cosa l'applicazione di un criterio di correttezza rispetto al quale non sono mai da escludere profili di responsabilità di natura diversa rappresentano una cosa questo è una cosa diversa è stato avviato lo scorso primo luglio all'interno dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca il servizio di riabilitazione pediatrica per minori portatori di handicap sono già 30 gli utenti che usufruiscono dell'importante attività che si realizza grazie alla convenzione siglata tra l'aspe di Agrigento e la fondazione Maugeri tra alcuni giorni azienda sanitaria provinciale vertici della fondazione amministrazione comunale promuoveranno un momento informativo per presentare il servizio e le modalità di accesso sentiamo è già attivo da alcuni giorni il servizio di riabilitazione pediatrica per minori diversamente abili all'interno dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca trova finalmente riscontro dunque la convenzione tra aspe di Agrigento e fondazione Maugeri per l'avvio in città di questo importante servizio ha preso il via lo scorso primo luglio e al momento i locali in cui è possibile effettuare l'attività di riabilitazione pediatrica sono quelli che si trovano tra i reparti di pediatria e ginecologia perfettamente adeguati ed attrezzati per rispondere alle esigenze e ai bisogni dei piccoli pazienti ma quella attuale in realtà è una sistemazione temporanea in attesa che la riabilitazione pediatrica trovi spazio nella sede individuata alcuni mesi fa e cioè alcune stanze del reparto di nefrologia il trasferimento avverrà non appena questi locali saranno pronti ad accogliere il servizio ma la notizia importante è che l'attività sia partita al momento sono 30 i pazienti che ricevono cura e assistenza ma l'auspicio è che di qui a breve attraverso un aumento del personale attualmente in servizio possano essere soddisfatte tutte e 60 le richieste che provengono dal territorio i criteri di accesso al servizio come è noto sono stati stabiliti alcuni mesi fa attraverso un protocollo d'intesa che l'aspe di Agrigento ha sottoscritto con le associazioni Crescere Insieme e Tribunale per i diritti del malato cessano dunque i disagi per quelle famiglie costrette da anni a recarsi presso i centri di riabilitazione di altri comuni l'avvio del servizio è un obiettivo su cui questa amministrazione ha lavorato da tempo commentano oggi il sindaco Fabrizio Di Paola e l'assessore ai servizi sociali David Enni che non possono fare a meno di ricordare l'impegno profuso dall'ex assessore alle politiche sociali Daniela Campione in favore dell'avvio della riabilitazione pediatrica tra qualche giorno fanno sapere i due amministratori unitamente all'aspe di Agrigento e alla fondazione Maugeri sarà organizzato un momento informativo durante il quale verranno illustrati i termini della convenzione e le modalità di accesso al servizio è inspiegabile e ingiustificabile che gli uffici del comune non abbiano ancora proceduto ad alcun tipo di intervento di manutenzione presso la chiesa della raccomandata della perriera eccezione fatta per la scerbatura esterna del sito a sostenerlo è la sezione di sciacca dell'associazione Italia Nostra che già lo scorso gennaio aveva segnalato fenomeni di degrado infiltrazioni ostruzioni delle colonne di scarico delle acque piovane ed uno stato definito pietoso in cui versano gli infissi in legno associazione Italia Nostra la quale ricorda anche che nel novembre del 2014 ha partecipato ad un bando per manifestazione di interesse per la valorizzazione e concessione del bene comunale ma né della predetta manifestazione di interesse né del successivo bando si hanno più notizie Italia Nostra chiede al sindaco di Paola di disporre un intervento immediato e risolutivo per la tutela del bene affinché vengano eliminati i fenomeni di degrado e chiede anche la predisposizione del bando per la sua gestione ripulita questa mattina l'area di emergenza e di sosta in via Penelope a San Marco che come potete vedere dalle immagini era ricoperta da erba alta gli interventi fa sapere l'assessore Silvio Caracappa sono stati realizzati dal personale ESA a seguito della convenzione che il comune di Sciacca ha stipulato anche quest'anno con lente sviluppo agricolo sicurezza stradale allacci fognari problemi idrici e realizzazione di aree di ritrovo e di socializzazione sono le tematiche su cui il comitato di quartiere Isabella Sant'Antonio chiede all'amministrazione comunale di intervenire è vero che ogni iniziativa di prevenzione costosa affermano dal comitato di quartiere ma è pur vero che molte delle risorse economiche prodotte dal piano particolareggiato di Contrada Isabella per legge destinata in parte dalla Contrada stessa concludono risultano disperse Acqua Pubblica Feder Consumatori Sicilia ha pensato di promuovere un incontro a livello regionale per accendere i riflettori sui costi del servizio idrico in Sicilia nettamente superiori alla media nazionale sulla qualità del servizio che nonostante questi costi resta al di sotto dei limiti minimi un convegno in programma venerdì 8 luglio presso la presidenza della regione siciliana ne parliamo in questo servizio è Feder Consumatori Sicilia a tornare a denunciare come il servizio idrico integrato nell'isola abbia costi nettamente superiori alla media nazionale a fronte tra l'altro di una qualità del servizio che continua a lasciare molto a desiderare come se tutto ciò non bastasse afferma l'associazione dei consumatori continuano a rimanere del tutto ignorate molte recenti delibere dell'autorità per l'energia elettrica il gas e il servizio idrico per affrontare la problematica nel suo complesso Feder Consumatori Sicilia ha pensato di promuovere un momento di dibattito riflessione proposta su queste scomode verità un convegno sul tema tariffe e qualità del servizio idrico le proposte di Feder Consumatori che si svolgerà venerdì prossimo 8 luglio a Palermo presso la presidenza della regione a partire dalle ore 9.30 sono invitati a partecipare gli esponenti delle istituzioni e delle aziende interessate alla gestione del servizio idrico il forum siciliano dei movimenti per l'acqua e i beni comuni e l'Anci Sicilia sarà presente anche la presidente della quarta commissione dell'Ars e Mariella Maggio e il vice presidente nazionale di Feder Consumatori Sergio Veroli abbiamo organizzato questo convegno spiega il presidente regionale dell'associazione Alfio Larosa perché crisi idriche come quelle che hanno recentemente colpito diverse province siciliane non sono più tollerabili e purtroppo i presupposti che hanno portato a quelle emergenze ci sono ancora in Sicilia inoltre viene palesemente calpestata la volontà espressa dai siciliani con il referendum del 2011 e con la legge d'iniziativa popolare e consigliare per l'acqua pubblica sottoscritta da cittadini e consigli comunali ed ancora aggiunge Feder Consumatori la nuova legge regionale la 19 dell'11 agosto 2015 disciplina in materia di risorse idriche che recepiva seppure in modo parziale la proposta di legge per l'acqua pubblica non è stata ancora applicata secondo Feder Consumatori Sicilia è arrivato il momento di attuare la legge regionale applicare le recenti delibere dell'autorità per l'energia elettrica il gas e il servizio idrico e attivare strumenti di partecipazione attiva da parte dei cittadini e delle associazioni di tutela dei diritti dei consumatori altri 192 milioni di euro di fondi europei per completare la realizzazione della fibra ottica in Sicilia questo è il piano approvato ieri dalla giunta Crocetta le somme consentiranno di portare avanti i lavori in altri 144 comuni dell'isola la prima parte di interventi invece costati 106 milioni di euro affidati a Telecom sono già in corso da settimane anche a Sciacca e dureranno qualche altro mese il servizio di Calogero Parla Pian più di 192 milioni di euro di finanziamenti europei e lavori in corso in 144 comuni siciliani sono questi i numeri relativi agli interventi per portare in Sicilia la banda larga che a breve sarà realtà grazie alla realizzazione di circa 5.000 km in totale di fibra ottica sono lavori necessari per potenziare la velocità di internet la connettività nelle case e negli uffici arriverà quindi con velocità da 30 fino a 100 megabit al secondo il progetto e le somme sono coordinate dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla regione siciliana mentre i lavori dovranno essere ultimati entro il prossimo gennaio 2017 i 192 milioni di euro sono la seconda parte di un piano più complessivo che è già partito da qualche mese e che sta coinvolgendo in queste settimane anche Sciacca gli interventi per la posa dell'opportuna strumentazione sono tuttora in corso e sono stati già eseguiti alla perriera in parte di Corso Vittorio Emanuele Via della Vittoria Via Campanella e Via Cappuccini e andranno avanti secondo programma fino all'espletamento definitivo sono state utilizzate ormai tutte le istanze presentate dalla Telecom questo è un servizio che porterà la città alla velocità di connessione che ormai hanno tutte le città moderne verranno completati i lavori in base a quanto ci ha detto il responsabile della Telecom nel giro di 3-4-5 mesi massimo la copertura sarà quasi totale per quanto riguarda tutta la città per cui credo che se non ci siano intoppi entro novembre dovremmo essere tutti connessi con la fibra ovviamente poi chi ci vuole passare ci passa è una decisione di tipo commerciale però la fibra sciacca ecco questo è un dato di fatto si può tranquillamente vedere in più punti della città già si sta mettendo sono interventi non molto invasivi perché come magari si possono vedere anche i cittadini sono delle mini trincee quindi non sono particolarmente impattanti anche per quanto riguarda il traffico la prima parte del progetto ha avuto uno stanziamento di circa 106 milioni di euro di cui 73 messi in conto dalla regione e gli altri 33 da Telecom Italia che si è giudicata la prima tranche di lavori soddisfatto l'assessore regionale all'economia Alessandro Baccei secondo il quale le opere daranno immediati benefici alle imprese e agli uffici della pubblica amministrazione inoltre il piano prevede di abilitare subito 1 milione e 250 mila singole utenze domestiche con il primo e il secondo investimento si conta di portare la tecnologia più avanzata nell'intera regione era l'ultimo servizio del nostro telegiornale io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni e vi do appuntamento